Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per traffico intenso tra il Bidio per la variante di Valico e Calenzano. L'area di servizio di Chianti Ovest, in direzione Roma, non eroga benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, chiusa per lavori, l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pluneta. La statale Duecassia è chiusa a causa di una frana fino al 7 gennaio tra il Bidio per Radicofani e quello di Ponte Arrigo in entrambe le direzioni. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato per lavori all'altezza del chilometro 16 nel comune di Reggello. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!